Signore e signori, Luca Abete! Popolo di 105! Eccolo qua, grandissimo Luca! Ricordo che mercoledì 27 maggio vi aspettiamo, Luca vi aspetta all'Università degli Studi di Napoli Partenope per l'ultima puntata per l'ultimo appuntamento con gli amici Esatto, sì, perché c'è questo tour che è partito proprio a settembre di cui Radio 105 ovviamente è partner, abbiamo attraversato tutta l'Italia, 14 tappe, 15esima tappa a Napoli, finiamo lì una città dove c'è davvero tanta gente che non si ferma davanti non soltanto ai semafori rossi come si può pensare che non si ferma davanti alle mille difficoltà quindi una tappa che ha un suo significato e che vuole essere anche un po' così, una sintesi di un percorso straordinario fatto appunto in una generazione di studenti universitari che magari sono un po' in difficoltà soprattutto non tanto fisicamente ma proprio psicologicamente Esatto, è una bella idea questa come ti è venuta questa idea di riuscire a cercare di motivare ragazzi che magari vivono in una società senza magari vivono nella società che spesso e volentieri ti ruba i sogni tu ce ne hai uno e ti dice no ma tanto guarda non ce la farai mai in Italia in modo particolare questo è ben presente Sì ma è perché qui siamo arrivati al punto tale che non è che ti rubano i sogni siamo arrivati al punto tale che ti dicono inutile che sogni tanto hai perso tempo e quindi i ragazzi che studiano non sanno neanche effettivamente loro cosa vogliono fare dopo io quando andavo all'università non da studente ma così da relatore incontravo i ragazzi mi rendevo conto che loro erano interessati su tutta una cosa Luca ma tu come hai fatto ad arrivare a striscia come hai fatto a coronare il tuo sogno Luca come si fa ad arrivare a canale 5 senza raccomandazione quando gli dicevo che non avevo dato il mio fantastico corpo in cambio di successo loro dicevano ok ci credo perché insomma è una mezza schifezza no però dicevo raccontavo la mia storia la storia di uno studente universitario che faceva l'animatore faceva il clown per far divertire i bambini e provando a fare semplicemente le cose per bene si è ritrovato giorno dopo giorno a farsi le ossa a diventare sempre più sicuro e la sicurezza scaccia la paura perché è naturale se tu hai fatto delle esperienze sei caduto tante volte e magari ti sei rialzato la caduta non ti fa più paura il futuro diventa una grandissima esperienza da vivere e magari quello che come è successo a me pensavi non potesse mai succedere trovi trovi tra le mani bello io vorrei che queste parole siano scolpite nella roccia nel marmo per tenerle lì nei secoli sono importantissimi come hanno reagito i ragazzi in queste quante tappe avete fatto fino ad ora? 14 ne manca una e guarda c'è grande entusiasmo perché i ragazzi soprattutto vengono perché c'è curiosità intorno al fatto che viene quello di striscia sostanzialmente non riescono a percepire prima la portata del messaggio che stanno per ricevere quando arrivano sono dei ragazzi che vengono a sentire uno che parla a un incontro e tutto quando poi vanno via hanno una luce negli occhi diversa loro ti abbracciano come se ci conoscessimo da una vita ma ci siamo incontrati due ore prima e tutto questo ti fa capire che loro hanno davvero grande bisogno di punti di riferimento hanno bisogno di piccole testimonianze concrete non sai quella chiacchierata fatta da quello che c'era fatta che ti dice tu sbagli qui sbagli là ma qualcuno che gli dica una cosa importante loro fanno un percorso in cui gli dicono devi diventare top manager devi diventare il migliore devi dire ti dicono come vincere però nessuno gli spiega mai come rialzarsi quando si perde come assorbire una sconfitta e questo proviamo a fare con i ragazzi e poi devo dire la verità ma voi lo sapete benissimo perché facciamo un lavoro fortunatissimo noi la cosa più bella è quando incontri il pubblico loro ti ringraziano per quello che gli hai dato ma alla fine sono io che ringrazio loro perché ogni volta riesco sempre più forte sempre più ricco e sempre più carico e nella tappa successiva faccio sempre cose diverse rispetto alla tappa precedente perché cerco di accumulare un bagaglio di esperienze proprio nato dal loro feedback ecco un argomento dolente per i ragazzi o per quelli che cercano di insomma crearsi un percorso è la classica porta in faccia ne abbiamo ricevute tutte quanti noi ne continuiamo a ricevere e tu immagino ne abbia ricevute perché è una delle regole dello spettacolo ricevere le porte in faccia come si reagisce? guarda io ragazzi sai cosa dico? loro restano così sbalorditi dico ragazzi io vi auguro di ricevere tante porte in faccia perché il problema è proprio questo chi va in palestra solleva primi 10 kg poi 12 poi 20 poi 30 poi 50 fino a sollevare i 100 ma se tu parti dai 100 ti spacchi la schiena ti spacchi tutto esatto quindi piccole porte in faccia già dalla tenere età potrebbe servire per imparare ad ammortizzare il corpo fortifica fortifica io poi nell'incontro con i ragazzi racconto le porte in faccia che ho ricevuto io alcune che avrebbero magari anche deviato il mio percorso sono stato capabile sono stato testardo ho provato a riuscirci e magari ci sono riuscito alla fine se ci credi veramente ce la fai sì l'unico nemico tra te e il sogno sei proprio tu sei tu sei proprio tu perché la sfortuna non esiste e molto spesso io dico ai ragazzi se sto parlando con loro dico ragazzi a casa vostra dovete installare una cosa nuova un alibi detector perché sì perché tanto noi inventiamo mille alibi diciamo è il concorso che lo vado a fare che lo faccio a fare tanto vincono sempre i soliti oppure quella cosa lì non vado tanto sai ma se non ci provi non ci uscirai mai ovviamente bravo bravo e poi perdendo perdendo si impara anche ad affrontare il nemico e poi ti fai le ossa e poi ti fai un culo quanto è importante la gavetta nella vita la gavetta è fondamentale perché io ti dico che ho fatto per tanti anni il clown ho fatto le adesioni minori facevo un programma per bambini che era davvero piccolo 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 però ti dico che tutto mi è servito quando ho avuto l'opportunità a striscia se non avessi avuto quel bagaglio di esperienze accumulati nel tempo magari non sarei mai riuscito e questo vale un po' per tutti non soltanto nel campo dello spettacolo un po' anche in tutti i settori in tutti i lavori anche il gelataio insomma allora Luca ci sentiamo un disco poi dopo torniamo ti volevo fare un'ultima domanda e poi ricordiamo l'ultima tappa di questo tour non ci ferma nessuno ci è venuto a trovare Luca Bete che ci sta parlando esattamente del suo tour che sta per giungere al termine esattamente il 27 di maggio a Napoli Università degli Studi di Napoli Partenope non ci ferma nessuno esatto il tour non ci ferma nessuno speriamo la radio 105 è partner di questo tour tour di Luca Bete da quant'è che è partito da settembre da settembre la prima tappa da Roma poi abbiamo girato tantissimo e abbiamo cercato di dare anche ai ragazzi delle opportunità concrete ci sono delle aziende che sono state particolarmente sensibili stanno raccogliendo un po' di curricula dei ragazzi e soprattutto stanno vedendo come inserire i ragazzi nel proprio ambito lavorativo e questo è importante perché le aziende cercano delle figure forti non è bello che non c'è lavoro c'è un aiuto concreto un supporto concreto da parte di radio 105 esatto non c'è però da parte delle nuove generazioni dei ragazzi di giovani di questo periodo la voglia la troppa voglia di raggiungere il successo nel modo più veloce possibile bruciando le tappe bruciando le tappe il successo e il denaro soprattutto e sì perché comunque c'è si sia tutto subito tu prima per dirti per stampare una tesi devi andare dallo stampatore capito che te la batteva a macchina oggi è tutto facile e molto spesso insomma si pensa che tutto sia raggiungibile anche nel breve tempo io dico sempre ragazzi ho detto anche ieri alla Sapienza al campus di Tor Vergata ho detto è importante rendersi conto che noi abbiamo un grande alleato che è il tempo il tempo non ti tradisce mai ma se tu tradisci lui lui ti frega quindi il tempo bisogna coltivarlo dai io sto qua sto lavorando bene ma tu quando vuoi tempo c'è da dire che la società tende ad accorciare sempre tutti i tempi quindi noi siamo costretti a correre spesso e volentieri però spesso e volentieri correndo non riusciamo a far mente locale su quello che realmente vogliamo quindi è importante rallentare un attimino noi siamo come delle piantine abbiamo bisogno del tempo per crescere ognuno ha le piantine che vuole certo invece lo dice a lui che si chiama Abete ed è chiamato Pino e consegna le piglie invece in realtà volevo farti un'altra domanda ti ho detto prima delle porte in faccia ma forse si dovrebbe parlare più di microfoni in faccia perché tutti voi di striscia li ricevete non quotidianamente ma spesso e volentieri facendo questo tipo di lavoro li ricevete sì sì fa parte del gioco ma anche noi i miei colleghi siamo un po' una testimonianza del non ci ferma nessuno pensiero perché magari vivere una vita da star della tv è una cosa vivere una vita da inviato di striscia è un'altra perché ti confronti quotidianamente con la gente che magari puoi incontrare anche dal supermercato no ma è pericolosissimo poi tu ad esempio tu stai soprattutto a Napoli ma come fai? no vabbè ma Napoli è una città meravigliosa perché la gente ti ama la gente ti vuole un bene incredibile poi ci sono quelle persone che non sono delle persone sbagliate ci sono delle persone che purtroppo hanno inculcata nella mente quando erano piccoli un modo di vivere che magari non è consentito più accettare e quindi quando tu gli vai a porre il microfono davanti loro ti dicono ma scusa ma che c'è di strano è sempre stato così però Napoli è una città stupenda ci sono delle persone veramente straordinarie e proprio grazie a loro noi stiamo facendo un lavoro eccezionale e non finirò mai di ringraziare la gente che è particolarmente coraggiosa che si mette anche in prima persona a lottare contro quelle piccole cose in ultimo posso fare un applauso a tutti i cameraman agli operatori che non si vedono mai ma ne prendono tante c'è anche Luca oggi sta dietro al vetro grande Luca tu porti qualche segno sul tuo corpo e avrai delle cicatrici dei colpi di pistola delle coltellate avevo dei capelli stupendi me li hanno staccati tutti va bene grazie Luca ricordiamo 27 maggio all'università di Napoli per l'ultima tappa del tour non ci ferma nessuno non mancate mi raccomando popolo di striscia ciao ciao Luca 105 Music & Cars torna tra poco music and cars music and cars